Agosto 2022, e come ogni agosto, sono tornato giù in Calabria per all'incirca un mesetto. Settimana più, settimana meno. A differenza degli altri agosti precedenti, a causa di varie ristrutturazioni che sta portando avanti mia madre a casa, finalmente sto decidendo di traslocare o concentrare tutta la mia collezione disneyana in unica collocazione, la libreria che trovate alle mie spalle. Per cui la dispersione che c'era prima tra le librerie in soffitta e altre librerie sparse in altri punti della casa, verrà alla fine eliminata con vari passaggi. E in questi passaggi ovviamente sto riscoprendo varie chicche all'interno della mia collezione, ma anche rimettendo un po' in ordine le varie serie. E questo mi ha fatto nascere l'idea di realizzare una serie di video più prettamente collezionistici in cui cercherò di raccontare un po' la mia collezione e con essa, perché no, la storia delle pubblicazioni disneyane in Italia. Inoltre per caratterizzare la serie ho deciso di utilizzare la stessa sigla che ho utilizzato per l'unboxing di Pippo, ovvero la sua risata. Spazzeremo da numeri magari particolari su Topolino, sperando di riuscire a mettere a posto i Topolino, che saranno invece l'ultima cosa che si stenerò. senza dimenticare albi storici come Zio Paperone, i maestri Disney o l'almanacco Topolino. L'idea è quella di pubblicare poi questi video più o meno una volta al mese, questo dovete considerarlo come il numero zero della serie. Tra i video che ho realizzato e quelli che conto di realizzare, più o meno di materiale ne dovremo avere per andare avanti all'incirca per un annetto. Per cui l'appuntamento è con il primo video ufficiale di questa serie, che spero di far uscire entro al massimo un paio di settimane da questo numero zero. E poi dall'in in poi andremo avanti con un video al mese. Quindi, come al solito, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di questa serie collezionistica. Saluti a tutti! Ricordati. P